Siamo l'unico comune che ha montato una centralina per la qualità dell'aria e anche per il monitoraggio dei pollini, questo per aiutare le persone che hanno delle allergie. Abbiamo i dati di queste due ultime settimane, sono ottimi, l'aria di Bercetto è ottima e possiamo dare anche tutti i quantitativi delle percentuali di polline che sono nella nostra aria. Credo che sia sempre più importante per paesi come Bercetto poter dare la sicurezza alle persone che vengono e ci vivono di un'aria eccezionale.